Questo concetto di resilienza umana e naturale, come è stato poi calato in un progetto di ristrutturazione di locali che avevano tutta un'altra funzione? Sì, questi locali avevano una destinazione, al di là di una parte di ingresso che già esisteva, di magazzino e questo, nella fattispecie dove siamo adesso, era un portico. Si è pensato di aprire la parte di magazzino verso l'ingresso e chiudere questo portico per rendere un locale unico. Da una parte di disambiguazione iniziale, da cui dipartono poi da un lato un percorso sulla storia e quindi sulla resistenza e quindi una serie di reperti, documenti e scritti che è una linea del tempo che traccia quelli che sono stati gli eventi che hanno interessato la storia nazionale ma poi anche la storia di questi luoghi. Invece da questa parte è la parte più naturale, quindi tutto quello che riguarda le peculiarità del Parco del Colle dell'Is. In particolare sono stati affrontati gli aspetti legati alle specie erbacee o alle specie vegetali che lo caratterizzano. Da un lato un discorso sulla resilienza e i cambiamenti che hanno interessato questi luoghi, la presenza del lupo, i toponimi e una parte legata anche alla geologia e quindi in particolare alle peridotiti, queste rocce che caratterizzano questa parte di territorio. Ecco, è un'area particolarmente interessante per i geologi. Sì, diciamo che c'è una particolarità. Ci troviamo sul massiccio ultrabasico di Lanzo che in questa parte di territorio è caratterizzata dalla presenza di questi che abbiamo chiamato così in modo un po' evocativo fiumi di roccia e sono sostanzialmente delle pietraie che su pendii più o meno acclivi caratterizzano la morfologia e anche il paesaggio. Sono delle rocce che si frantumano da questa peridotite affiorante, chiaramente stiamo parlando di tempi geologici, quindi tempi molto molto lunghi, di qualche milione di anni, e che hanno in qualche misura, proprio grazie alla composizione mineralogica, determinato queste fratture e questi blocchi che disarticolandosi ricoprono i pendii. Sono caratteristici e sono una rarità a livello mondiale perché soprattutto con concentrazioni di questo tipo probabilmente sono le uniche al mondo o comunque in poche altre parti del mondo si ritrovano. Rappresentano una curiosità e possono rappresentare anche lo spunto per un approfondimento su quella che è una parte delle scienze della Terra, che sia un aspetto morfologico che un aspetto petrografico.